Ehi tu, sì, dico proprio a te, sei stanco di un lavoro sottopagato in cui la parola straordinari è solamente un aggettivo presente sulla survey di fine anno e riferito ai benefit aziendali che la pressione sociale ti spinge a falsificare per paura di essere scoperto e licenziato? Da oggi c'è una soluzione, gioca d'azzardo! Perché puntare sul noioso stipendio fisso quando puoi avere una vita dominata dal caos in cui le tue giornate saranno un'alta lena di emozioni Ruba 20 euro dal borsellino della nonna e comprati un gelato al gusto snai Tanto figurati se se ne accorgi quella rincoglio E se ti manca il capitale per iniziale, sta senza pensieri Il contatto con il miglior ente di private funding disponibile sulla piazzetta te lo troviamo noi Ricorda però, Sergei ha tanta generosità ma poca pazienza Non tardare troppo a ridargli i soldi O saremo costretti ad assumere la tua ragazza come attrice nel nostro prossimo film indipendente Cosa aspetti? Hai tantissimi giochi tra cui scegliere Corse dei cavalli, combattimenti tra criceti, super analotto Da oggi puoi scommettere su qualsiasi cosa Anche sul meteo di domani Anche sull'esito della love story tra Totti e Ilari Blasi Anche sul taglio di capelli con cui si presenterà in campo Balotelli Nella sua nuova avventura alla Danademir Sport Club della massima serie del campionato turco E a proposito di campionato turco Hai mai pensato di giocarti il risultato esatto di Pending Sport Ankaraguku? Come? Non ne sai niente di campionato turco Ma da oggi non serve più conoscere le cose su cui si scommette Ci sono i nostri tipster I tipster sono scommettitori esperti Che grazie ai più sofisticati meccanismi Ma soprattutto all'esperienza Sono in grado di prevedere l'andamento delle manifestazioni sportive Indirizzandoti verso le scommesse a lungo termine Perché certo potrebbe sfortunatamente capitarti di perdere nel breve periodo Ma stai tranquillo Perché in soli 325 anni finalmente riuscirai a realizzare il tuo sogno Diventare ricchissimo! E se sei uno sportivo professionista Accedi all'offerta speciale dedicata solo per te Di cui ti parlerò in una cena con la mafia russa Cosa aspetti quindi? Affida la tua vita al caso Gioca d'azzardo Potrebbe causare dipendenza Impoverimento Conflitti con amici e parenti Perdita di pazienza da parte di Sergei Inappetenza Accessi di ira e di depressione Gioca responsabilmente E solo tramite le piattaforme autorizzate dallo Stato Che se no poi ci tocca legalizzare la prostituzione Per tirar su quei 10 miliardetti l'anno Che ci mettiamo nella saccoccia grazie alla ludopatia Iscriviti al canale di Grossi Lascia mi piace E con i video il video E con i video